quello che andrea e alina oggi ci dicono è certo che è importante il volto certo che è importante la bellezza quello che ci ha fatto innamorare ma quello che ci ha fatto unire oggi è il nostro cuore è quello che c'è dentro è questo quello che oggi gli sposi si donano uno all'altra davanti a due che dio benedice io andrea accolgo te alina come mia sposa con la gratia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita io alina accolgo te andrea come mio sposo con la grazia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute della malattia e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita ci hanno detto già adesso nooo nooo io devo fare giocare in moto ma è che carnevale azi un'altra parte sì 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 ecc sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.